Squadra e plotoni di fanteria a fuoco con armi portatili di reparto, l'intrasporto tattico, impiego dei principali mezzi e sistemi d'arma in dotazione a fanteria, cavalleria e artiglieria. Sono soltanto alcune delle attività di UNACES 2019, grande esercitazione organizzata e curata dal Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito, e che coinvolge 1.400 allievi degli istituti di formazione di forza armata impiegati su 5 regioni, Calabria, Lazio, Toscana, Puglia e Valle d'Aosta. L'obiettivo, come dice la parola stessa, è formare un'ACES, ovvero un'unica schiera. Una federazione di attività addestrative, afferma l'esercito, fondamentale per ufficiali, marescialli, allievi ufficiali, allievi marescialli e cadetti, così da validare sul campo il grado di preparazione ed efficienza raggiunti e offrire al Paese il meglio per garantirne la sicurezza sul territorio nazionale e nelle aree di crisi. Iniziata il 15 aprile, l'esercitazione si concluderà il 28 luglio, per poi riprendere il 1 settembre e chiudersi definitivamente il 24 novembre dello stesso anno. Esercitazione essenziale per offrire al nostro Paese i livelli più elevati e gli standard più alti di sicurezza in territorio metropolitano e nelle aree di crisi.